Il Giro d'Italia ti lascia quel qualcosa che non riesce a darti nessun'altra corsa, perché il Giro, al di là della sensazione che si prova nel correrlo, è una festa che dura 21 giorni, è una festa a partire dalla mattina fino ad arrivare alla sera. Al di là della corsa c'è un ambiente fantastico, il foglio firma, il dopo tappa e tutto l'insieme che raccoglie l'emozione del Giro d'Italia. Dell'ultima salita, come ha descritto prima Luciano, mi ha colpito molto la mia freddezza, perché spesso anche io ho fatto degli errori, magari ne sbagliarmi a gestirmi, magari andavo troppo forte, troppo piano. Invece quel giorno, nonostante fossi al Giro d'Italia, nonostante la giovane età e tutto, sono riuscito davvero a tenere i nervi saldi, perché comunque sia avevo una buona gamba e quindi mi sono riuscito a gestire per tutto il tratto in salita. Il corridore che mi ha impressionato di più, al di là del risultato, che alla fine è risultato lui il migliore, parlo di Vincenzo Nibali, io nei primi giorni del Giro vedevo lui come il possibile favorito, perché vedevo che anche in salita aveva una pedalata diversa dagli altri e poi purtroppo ha passato quei giorni, quelle due o tre tappe un po' così così. Però quello che mi ha impressionato come stile, come andare in bici, tutto è appunto Nibali, che si vede che ha sempre quella marcia in più rispetto agli altri. Per il rientro rientrerò a legare il 27 luglio in Danimarca, quindi dal 27 al 31 luglio, adesso ho già ripreso con gli allenamenti, piano piano tornerò a riprendere gli allenamenti in maniera più consistente e poi proveremo a fare un finale di stagione ancora buono. Grazie. 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 Grazie.